Ciao a tutti, il mio nome è Rosita e vi do il benvenuto all'angolo del crimine. Oggi vi parlo di un caso che, dopo 30 anni di mistero e silenzio, è stato tirato fuori dall'oblio in cui era finito, ma non con gli esiti sperati. Di fatto questo è ancora un cold case. Una donna ricca e stravagante è un delitto che ha sconvolto la Torino degli inizi degli anni 90. Oggi vi parlo di Franca De Michela, la signora in rosso. Torino misteriosa, Torino esoterica, Torino una bella signora con un filo di perle, statuaria ed elegante, borghese, aristocratica e proletaria, ma anche trasgressiva, magica e immortale, come amava a definirsi la protagonista della nostra storia. Una vicenda che trova in Torino il suo scenario ideale. Perché il mistero che circonda questo caso nasce dalle viscere di questa città, che è tutto e il contrario di tutto. È Amalia con il suo lato oscuro, perché, dopo tutto, non esiste nulla di simile a Torino. Torino e Franca De Michela, in fondo, sono le due facce di una stessa medaglia. È la mattina del 15 settembre del 1991, è domenica, e a Barauda di Moncalieri, sotto a un cavalcavia della tangenziale, da anni ci vive un uomo, un certo Luigi Jordan, un senzatetto. Tra detriti, sporcizi e spazzatura, Luigi ha attrezzato un piccolo giaciglio di cartoni dove dormire. Un frigorifero rotto che funge da dispensa, vettovai e un tavolo e una sedia abbandonati da chissà chi, completano l'arredo. A fargli compagnia anche un gatto. Una mattina come tante, nell'esistenza semplice di Luigi, che dopo aver dato da mangiare al suo gatto, in sella alla sua bici si reca a Moncalieri a comprare delle sigarette. Dopo un'ora e mezza è di nuovo lì, in quella casa di fortuna sotto il cavalcavia della tangenziale sud che porta a Torino. Al ritorno, Luigi posa la bici al solito posto, ma si accorge di qualcosa che un'ora e mezza prima proprio non c'era. Ed è qualcosa che non può passare inosservata, perché lì, gettato tra i rifiuti, c'è qualcosa che, a guardarlo da lontano, sembra un manichino, ma che in realtà è un corpo di donna. Luigi è sconvolto, si avvicina appena alla donna, non la tocca neanche per capire se fosse viva o morta, ma scappa a cercare aiuto. Lì, nelle vicinanze, c'è un giardiniere comunale. Luigi lo raggiunge e intima di chiamare subito i carabinieri. E sarà lo stesso Luigi poi a riferire della presenza di un corpo di donna nel suo rifugio di cartone, specificando però che lui non c'entra nulla. Una volta giunti sul posto, i carabinieri capiscono subito che per la donna non c'è più nulla da fare, ma notano anche altro. La signora indossava un vestito rosso vivo molto appariscente, un turbante di seta a circondarle il capo e una spilla molto elegante appuntata sul vestito. Ai piedi una sola scarpa, anch'essa rossa, ben visibili ai lati del collo i segni inconfondibili di uno strangolamento, come poi appurerà il medico legale. Non c'erano dubbi, quella donna era una vittima di omicidio. A un primo esame del cadavere, i carabinieri ipotizzano che la poveretta non fosse stata uccisa in quel luogo. Qualcuno, forse approfittando dell'assenza di Luigi, l'aveva scaricata lì come un rifiuto. Si apre in quel momento il giallo della dama e il rosso, un caso che sconvolgerà la Torino bene, ma anche la Torino della notte, quella misteriosa e trasgressiva. Nessuno sa chi sia quella donna così elegante e così brutalmente uccisa. Addosso non ha documenti, nulla che possa identificarla. Per tutti è la signora e il rosso e così entrerà nella storia della cronaca italiana, anche quando di lei si conosceranno anche i più piccoli particolari. Per i carabinieri l'unico modo per cercare di risalire all'identità del cadavere era sfruttare quel vestito elegante e così vistosamente rosso. I carabinieri si procurano un manichino e lo rivestono con gli abiti della donna, poi fanno qualche foto che rilasciano la stampa nella speranza che qualcuno possa riconoscere l'abito e svelare a tutti che appartenga a quel corpo senza vita. La stampa, neanche a dirlo, si lancia come un rapace su quel nuovo caso e il giorno dopo tutti i giornali aprono con la notizia del ritrovamento della signora e il rosso, con tanto di foto del manichino. Quell'espediente però è providenziale e a farsi andare il caffè di Traverso quella mattina, la mattina di lunedì 16 settembre, è la proprietaria di un elegante boutique di abiti in Viaggio Litti, in pieno centro a Torino, che aprendo il giornale riconosce in quegli abiti qualcosa di già visto. Ma non solo, la donna è anche certa di conoscere chi indossava quell'abito e chiama subito i carabinieri per comunicarlo. La titolare riferisce che una signora era passata dalla sua boutique sabato pomeriggio con addosso un abito in vual rosso a balze, lo stesso della foto. La donna, aggiunge la titolare, aveva provato qualche capo ma non aveva acquistato nulla. Ma tra i ricordi della proprietaria della boutique c'è anche una pochette di raso che l'elegante signora aveva aperto per riporre il biglietto da visita del negozio. Durante quello scambio alla titolare era accaduto l'occhio sul contenuto della borsa. In bella vista infatti vi era una mazzetta di banconote da centomila e dei assegni che quasi non entravano dentro la pochette, al punto che la donna fece fatica a richiuderla. Ma non furono le uniche cose a essere notate, perché la signora era riccamente ingioiellata, tra anelli di diamanti, colliero, orecchini e persino una cavigliera. Sì, insomma, non era una che passava di certo inosservata. Ma chi è quindi la signora rosso gettata tra i rifiuti di Moncalieri? Il suo nome è Franca De Michela, ed è un nome che esplode come una bomba nei salotti della Torino altolocata dell'alta borghesia, perché Franca De Michela, nata a Candia Canavese nel 43, è una che nei salotti buoni di Torino c'era cresciuta, essendo figlia di un ex dirigente della Fiat dai tempi di Vittorio Valletta, storico amministratore delegato. Quando muore, Franca ha 48 anni, ha lunghi capelli neri, fisico statuario e ha uno sguardo ammaliante come pochi. Salottiera, sì, ma non una qualunque e non solo quello, Franca era davvero qualcosa di più. L'aggettivo più usato per descriverla è eccentrica o stravagante, una donna decisamente sopra le righe, amante della bella vita, specie quella notturna. Franca era un vulcano, sempre in movimento, una che passava da una passione all'altra con la stessa facilità con cui si cambiava d'abito, e tra le sue passioni più recenti c'era sicuramente quella della compravendita di stoffe orientali, ma erano tantissime le attività in cui si era lanciata nel corso della sua esistenza. Una donna che sembrava avere l'urgenza di vivere, e di vivere al massimo. Ma Franca De Michela era molto di più di questo, e lo vedremo. Ma torniamo per un attimo alle indagini sul caso della tragica morte di Franca De Michela. Secondo il medico legale, la donna sarebbe morta per asfissia meccanica. Esclude però uno strozzamento, cioè quindi tramite l'uso delle mani, ma piuttosto uno strangolamento con qualcosa tipo una sciarpa, e successivamente all'autopsia, data l'ora della morte, approssimativamente intorno alle due del mattino. Ma non solo, la donna avrebbe anche avuto un rapporto sessuale. Le indagini appaiono subito complicate, anche se c'è già una pista che prevale sulle altre, quella della rapina finita in tragedia. Per certo si sa che la donna quel sabato pomeriggio se n'era andata in giro con una borsetta gonfia di contanti e assegni, ma non solo. Era anche carica di gioielli di altissimo valore. Gioielli che quando la ritrovano però non ci sono più, a parte una spilla. E su questo punto però le fonti discordano, cioè degli articoli riportano che in realtà i gioielli li avesse, altri no, giusto chiarirlo. Diamo per buona però che i gioielli non ci fossero. Gli inquirenti ipotizzano quindi che qualcuno, notandola, l'abbia seguita, ripulita e poi uccisa. Ma le indagini, come sempre avviene in questi casi, vanno un po' in tutte le direzioni. La formula di rito prevede che non si escluda alcuna pista, specie perché Franca De Michela, e lo abbiamo accennato, non era una donna qualunque e forse il mistero della sua morte si nasconde proprio fra le piede delle sue strane frequentazioni. E allora, vale la pena scoprire chi era davvero Franca De Michela? Di se stessa diceva che fosse misteriosa e immortale. Aveva una così alta considerazione di sé da ritenere di essere la reincarnazione niente meno che della regina egizia Nefertari. Chi la conosceva bene di lei dirà che aveva una personalità multiforme, che raramente mostrava la sua vera essenza. Più spesso amava interpretare dei personaggi, a seconda dei giorni o a seconda dei posti in cui si trovava. Per lei ogni luogo era un palcoscenico dal quale si birsi. Sapeva essere all'occorrenza una perfetta donna dell'alta borghesia in tailleur di Chanel o una festaiola da night in abiti succinti. Una personalità complessa quella di Franca, indecifrabile e impenetrabile. Ma era anche divertente e coinvolgente, capace di fare amicizia anche con le persone più diffidenti. Lei conquistava tutti con il suo modo di fare spontaneo, alla mano, con la compiacenza di chi sapeva come ottenere quello che desiderava. Franca, che era una donna nata nella giatezza, era però anche estremamente aperta e altruista. Aveva amici tra i rom, tra i migranti con cui spesso concludeva degli affari commerciali. Sì, perché spesso Franca se ne andava in giro con una grossa borsa piena di stoffe, abiti e gioielli e a chiunque le domandasse che ci facesse con tutti quei vestiti, lei rispondeva a Serafica. Qualcuno lo tengo, qualcuno lo vendo e qualcuno lo regalo ai poveri. Era molto amica delle mogli dei capi clan dei campi rom che frequentava e da alcune si faceva leggere la mano. Lo abbiamo detto, incastellare Franca in un'etichetta è praticamente impossibile perché era tante cose insieme. Era come Torino e di questa città ne incarnava totalmente l'anima. Franca era una che, per capire il personaggio, una volta prese una delle sue biciclette, comprò un mazzo di rose da un fioraio, le mise dentro la cesta della vici e andò in piazza a San Carlo a vendere rose agli innamorati. E le vendette tutte. Il giorno dopo andò compiaciuta da una sua amica dicendole «Ieri sera ho fatto grandi affari vendendo rose in piazza». Era così, spiazzante ed eccentrica fino al midollo. Da 14 anni era sposata con un impiegato dell'ufficio contabilità della Fiat, di nome Giorgio Capra. Franca e Giorgio si erano conosciuti nel 76 al Trocadero, una discoteca molto in voga a quei tempi. Il timido Giorgio era rimasto folgorato dalla prorompenza di Franca. I due iniziarono a frequentarsi, ma fin da subito le differenze di carattere e abitudini si fecero evidenti. Ma Giorgio, il metodico Giorgio dall'aria mite, piaceva moltissimo ai genitori di Franca che, in un modo o nell'altro, la spinsero a sposarlo. Giorgio così prese due piccioni con una fava, una bella moglie, di buona famiglia e, con la buona parola del suocero, anche un ottimo impiego in Fiat. Ma fu un colossale errore. Un errore che entrambi pagheranno caro. Ci aveva provato Franca essere la moglie che Giorgio avrebbe voluto, ma dopo un po', la natura selvaggia e fuori dalle righe di Franca presso il sopravvento. I due non avevano avuto figli e, dopo 14 anni, il loro era un matrimonio solo di facciata, perché Giorgio, al contrario della moglie, era un uomo di un ordinario esasperante. E mal tollerava il fatto che la donna frequentasse le comunità rom e che andasse nei loro campi, partecipassse alle loro feste, così come non tollerava quel suo andarsene in giro a vendere abiti e gioielli o rose, se le capitava. Franca era per lui una calamita, ma con la stessa forza la respingeva, perché quel suo modo di essere era troppo lontano da lui. Ma c'era qualcosa che proprio il marito Sabaudo fino al midollo non poteva tollerare di Franca. Quella sua invincibile fascinazione per l'occulto, la magia, la lettura delle carte, l'esoterismo. Una passione che Franca aveva fatto sua negli ultimi anni della sua vita e poi quell'assurda abitudine di andarsene in giro piena di gioielli. Erano in tante a dirle che non era il caso di farlo, ma lei, istintiva come un animale quando si trattava di approcciare gli altri, era portato a fidarsi di tutti e con impertinenza rispondeva, a me non può succedere nulla perché sono magica e immortale, io sono Nefertari. Una magia che non l'aveva salvata da chi la notte fra il 14 e il 15 settembre del 1991 aveva messo fine alla sua vita. Ci credeva davvero nella sua invulnerabilità a Franca, credeva davvero che attorno a lei ci fosse uno scudo magico che l'avrebbe protetta da chi voleva farle del male, ma non è stato così. Con un quadro del genere gli inquirenti hanno davanti a loro fin troppe piste da seguire, tante quanto tutte le persone che Franca frequentava e non tutte erano così specchiate. Eppure fin da subito le indagini si concentrano su una persona in particolare, proprio lui, il barito di Franca, Giorgio Capra, quello che più di tutti subiva la stravaganza di Franca De Michela. L'uomo venne interrogato per una notte intera, dalla sua c'era un alibi che però non era così solido, almeno agli occhi degli inquirenti. L'uomo disse di aver trascorso la notte del delitto a casa della madre, a Val della Torre, e ovviamente l'anziana madre aveva confermato la circostanza. Giorgio verrà rilasciato ma appena una settimana dopo l'uomo verrà arrestato in casa della madre a Val della Torre con un'accusa pesantissima, omitido volontario. Ma perché? Cosa avevano trovato gli inquirenti di così compromettente da arrestarlo? Giorgio Capra nel 1991 ha 49 anni. Lo abbiamo detto è un piccolo impiegato dalla vita ordinaria, un travette, come si dice in torinese, indefesso stipendiato da una delle più importanti aziende italiane. Anche il suo aspetto è piuttosto ordinario, sempre ben vestito, capelli pettinati alla perfezione, fresco di barba, sempre, ogni giorno dell'anno. Abitudinario esce e rientra sempre allo stesso orario, non ha vizi, non ha amici. È un figlio insostituibile che ama la madre sopra ogni cosa. Uno che ci tiene ad apparire in un certo modo, tanto che a tutti dice di essere un ingegnere, anche se ha solo un dignitoso diploma di ragioniere. L'unica nota stonata in quella vita dall'assetto quasi chirurgico era proprio lei, Franca, quella sua moglie troppo ribelle così distante da lui, una distanza che non era più solo mentale, ma anche fisica. I due vivevano da separati in casa, quasi non si incrociavano per giornate intere, proprio per quegli orari completamente sballati di Franca, regina delle notti torinesi. In quelle lunghe notti, mentre Giorgio dormiva, forse si tormentava di rabbia per quel suo modo assurdo di vivere, lei se la spassava nei night con ragazzi più giovani di lei con cui intrecciava relazioni senza importanza. E cosa pensava Franca di Giorgio? Pensava che fosse un bra uomo, un punto fermo nella sua vita. Tuttavia non poteva fare a meno di definirlo un mattone, cioè un uomo noioso la cui unica passione era curare i fiori di casa, leggere libri e ascoltare musica classica. Con la spietata brutale sintesi giornalistica, il giorno dopo l'arresto, Giorgio Capra, per contrapporlo alla dame in rosso, verrà definito l'uomo in grigio. Capra era un uomo mite, a detta di tutti, eppure c'era anche chi avrebbe giurato che fosse pieno di rancore nei confronti della moglie. E se ne convincono anche gli inquirenti, specie quando alle loro orecchie giunge la testimonianza di una donna che su Giorgio e Franca ha qualcosa di molto interessante da riferire, qualcosa avvenuto appena qualche giorno prima di quella strana morte. Un litigio. Un litigio in pieno giorno è per strada. A urlare lui, Giorgio. Già, l'uomo che quando parla lo fa sottovoce, adesso urla e strattona la moglie per un braccio, mentre lei, ammutolita e impettita, prova a liberarsi da quella stretta. Giorgio le sta dicendo che non può fare sempre come le pare, che deve darsi un contegno, che loro non sono una famiglia da niente, loro sono una famiglia per bene. Lui è un uomo per bene. E Capra gliela urla in faccia la sua frustrazione. Quel suo incontenibile livore per una moglie che evidentemente lo metteva in imbarazzo in ogni istante della sua vita. Lo sanno tutti cosa sei tu, le dice Paonazzo in volto, mentre le strappa la borsetta dalle mani. E un attimo, Franca si toglie una scarpa e gliela lancia contro, poi rientra in casa sbattendo con forza il portone, mentre Giorgio, sempre con la borsetta in mano, raggiunge l'auto e va via sgommando. A intercettare questa scena pietosa, una loro vicina di casa che registra ogni fotogramma di quella succulenta lite, pensando magari di farne motivo di pettegolezzo con le amiche del vicinato. Qualcosa per cui scuotere la testa in segno di disapprovazione per quella donna così libertina che aveva fatto andare su tutte le furie una pasta di pane come il dottor Capra. Non immagina di certo che quella scena dovrà raccontarla ai carabinieri qualche giorno dopo, per un caso di omicidio. Ma per questo Capra era stato arrestato? No di certo, amici miei. Qualcosa di molto più importante era stato scoperto sul conto di Giorgio. O meglio, all'interno della sua auto. Sì, perché durante una perquisizione nel cruscotto dell'auto di Capra viene ritrovata una borsetta piena di gioielli, ma anche delle polizie di pegno per dei preziosi che erano stati impegnati al monte di pietà. Ed è un colpo di scena clamoroso. Che ci faceva quella borsetta e i gioielli della donna nella sua auto? Gli inquirenti vengono inoltre a sapere di alcuni dissapori all'interno della famiglia di origine di Franca. Il padre, ex dirigente Fiat, era morto due mesi prima. Da donna si era quindi fatta carico della cura della madre diabetica, a cui ogni mattina faceva l'iniezione di insulina. Almeno fino a che uno zio di Franca non era subentrato a lei nell'assistere la madre, scalzandola e di fatto impedendole di prendersene cura. Questo fatto destabilizzò molto Franca e a questo si aggiunse anche la questione dell'eredità del padre. Sì, perché Franca ereditò un ingente patrimonio tra contanti e immobili. Franca non era mai stata indigente, lo sappiamo, e anche prima di ereditare quel patrimonio aveva sempre ostentato molto. Eppure, secondo alcuni, quel surplus di ricchezza le fece un po' perdere la testa, perché ancora più di prima prese ad andarsene in giro carica di gioielli, ostentando il più possibile e sperperando il denaro in acquisti futili. E, secondo la ricostruzione degli investigatori, fu proprio quello a trasformare Giorgio Capra da uomo mite ad assassino. Quella lite, che era già un'anomalia nel loro assetto di coppia, era solo il preambolo di ciò che sarebbe avvenuto qualche giorno dopo. L'uomo motivera la presenza di quella borsetta in auto proprio per la tendenza della moglie nell'ultimo periodo di sperperare i suoi soldi a più non posso. Capra aveva trafugato parte dei gioielli della moglie per preservarli in qualche modo ed evitare che la donna li rivendesse. Inoltre, da casa, sempre secondo la versione di Capra, era scomparso un mazzo di chiavi e, per paura che quelle chiavi fossero finite in mano a gente poco raccomandabile, l'uomo aveva deciso di mettere al sicuro i gioielli, portandoli in casa dei genitori a Val della Torre. Ma i sospetti su Giorgio Capra si fanno ancora più forti quando, durante la perquisizione dell'elegante appartamento dei coniugi Capra, in corso Bramante 6, a Torino, i carabinieri trovano anche due biglietti. In uno c'era scritto «Ci vediamo stasera» e nell'altro c'era un appunto «Val della Torre, Torino, 25 minuti». Secondo l'interpretazione degli inquirenti, quei biglietti, incautamente lasciati sulla console dell'ingresso, farebbero riferimento all'appuntamento con la moglie. L'altro, al calcolo del tempo che il precisino Capra avrebbe impiegato per raggiungere Val della Torre, da Torino, dopo l'assassinio della moglie. Capra si difenderà dicendo che quel biglietto si riferiva a qualche tempo prima. L'altro era frutto della sua mania di controllo, voleva sapere infatti quanto ci avrebbe impiegato ad arrivare in ufficio partendo da casa della madre, per non rischiare di arrivare in ritardo a Mirafiori. Ma gli inquirenti, ormai innamorati di quella pista, non gli credono. Ma come gli contestano, preciso com'è, avrebbe lasciato quei bigliettini lì tutto quel tempo. Di contro, invece, in uno stato di forte agitazione come quello in cui si troverebbe qualcuno che uccide la moglie, sarebbe stato più probabile dimenticare di rimuovere quei bigliettini. E come in uno stranissimo effetto domino, la faccenda per Giorgio Capra si complica ancora di più quando, all'attenzione degli inquirenti, arriva la testimonianza di quel senza tetto che viveva sotto al viadotto della tangenziale, quello che aveva scoperto il corpo. L'uomo, nel corso di un interrogatorio, riferisce che a bazzicare in quel sottopassaggio non c'era solo lui. A fargli compagnia qualche centinaio di metri c'era anche una prostituta che ogni sera si appostava lì in attesa di clienti. Anche la donna viene interrogata per capire se avesse visto qualcosa in quei giorni e, sorpresa delle sorprese, in un confronto all'americana la donna riconosce in Giorgio Capra uno dei suoi clienti. Il Capra quindi conosceva e anche molto bene quella zona, ma soprattutto avrebbe saputo come arrivarci, cosa non facile se non si è pratici di quella zona. Capra e la prostituta vengono persino messi a confronto e mentre la donna si fa ancora più convinta del fatto suo, uno stranunato e agitatissimo Giorgio nega assolutamente di averla mai vista. Quello di Capra è ormai un vero e proprio assedio. Ma come sarebbero andate le cose secondo la ricostruzione degli inquirenti? Gli investigatori pensano che Giorgio Capra abbia fatto le cose per bene. Intanto, per costituirsi un alibi, nei giorni precedenti all'omicidio di Franca si era praticamente trasferito dall'anziana madre. Quella sera, sabato 14 settembre, era in effetti in compagnia della madre. Giorgio però avrebbe finto di andare a dormire, avrebbe poi aspettato che la madre si addormentasse per sgattaiolare fuori casa, mettersi a bordo della propria auto e raggiungere via Bramante, dove avrebbe aspettato in auto il ritorno della moglie, come sempre in giro a fare bisboccia. E quando finalmente Franca aveva fatto ritorno a casa, l'uomo l'avrebbe raggiunta nell'appartamento che dividevano e lì, dopo una colluttazione, l'avrebbe uccisa. Ma perché gli inquirenti ipotizzano l'omicidio sia avvenuto nell'appartamento di via Bramante? Questo caso, più di altri casi, si è nutrito in larga parte delle testimonianze di una serie di personaggi che, a vario titolo, avevano gravitato attorno ai coniugi. L'ultima in ordine di tempo è la testimonianza dell'ennesima vicina di casa, una donna che abitava al piano di sotto rispetto ai coniugi capra. E che racconta che quel sabato sera era rientrata a nottefonda e aveva visto Franca litigare con un uomo alto, con un'andatura claudicante e con una giacca chiara. Nel loro concitato parlare aveva captato queste parole «Io ti faccio interdire». La donna però non dice che quello fosse il marito di Franca, anche perché la vicina, dice lei, si era concentrata più sulla donna, forse perché era vistosamente vestita. È strana questa testimonianza. Com'è possibile che la vicina non abbia riconosciuto il marito di Franca. Tuttavia la donna non lo esclude e per questo i carabinieri si convincono che quell'uomo fosse proprio il capra. Soprattutto per quella minaccia. Chi, se non il marito, avrebbe potuto fare interdire la moglie? Si chiedono gli inquirenti. Ma non è tutto. Sempre la vicina, a quel punto in allerta, aveva avvertito dei rumori provenire dall'appartamento dei suoi strani vicini. Erano grida concitate della povera Franca e poi, improvvisamente, un rumore come di porta che si chiudeva una, due, tre, quattro volte. La voce della donna poi si era fatta via via più flebile fino a non sentirsi più. Da quel momento non sentirà più neanche un rumore provenire da quell'appartamento. Per gli investigatori il capra aveva provato a strozzare la moglie, premendogli fortissimo la porta sul collo, mentre questa era sdraiata per terra. Sempre secondo la ricostruzione, l'uomo dopo averla uccisa avrebbe trascinato il corpo della donna fuori dall'appartamento, avrebbe preso l'ascensore sempre trascinandola e sarebbe anche uscito dal portone. Una fortuna spietata quella del capra perché nessuno lo avrebbe visto. Successivamente l'avrebbe caricata in auto e buttata in quel luogo che ben conosceva a Moncalieri. Giorgio Capra rimane in carcere per 18 giorni e saranno 18 giorni durissimi perché verrà messo sotto torchio ogni singolo giorno per ore e ore. Sei stato tu, confessa, che dopo starei meglio. Così lo incalzava il capo della mobile con il dito puntato che si agitava a un centimetro dalla sua faccia in quelle lunghissime ore in camera di sicurezza, mentre Giorgio in un loop infinito rispondeva che no, lui franca, non l'aveva uccisa. E pare anche che abbia sommessamente aggiunto che se avesse voluto ucciderla lo avrebbe fatto 14 anni prima. Non cederà neanche un minuto e alla fine saranno costrette a proscioglierlo perché su di lui non c'erano prove oggettive. I parenti di Giorgio, la madre, i cugini e tutti quelli che avevano creduto alla sua innocenza tirano un sospiro di sollievo. La voce è un'anime. Quello che avevano dipinto in quei giorni non era il Giorgio che tutti conoscevano, iroso frequentatore di prostitute, ma che Giorgio era un uomo miete che cercava solo un po' di serenità. E non era neanche un bacchettone che stava tutto il giorno a rimproverare la moglie. No, Giorgio era un uomo brillante, colto, con cui era piacevole discutere di tutto. E i parenti vanno a tutte le trasmissioni a cercare di ridare lustro a un uomo integerrimo e lo fa lui stesso. Ingiustamente accusato di una cosa orribile. Era piuttosto lei a maltrattarlo e a umiliarlo davanti a tutti. Ma Capra non saprà mai smacchiare del tutto il suo buon nome. E lo vedremo. Archiviata la pista del marito, le indagini si indirizzano verso la primissima pista, relativa alle strane frequentazioni della donna. In particolare si indaga sui suoi rapporti con alcuni membri della comunità di Rom con cui era stata vista quella sera. Forse le stesse persone che il marito le raccomandava di non frequentare, come dirà in un noto programma televisivo. Si cerca quindi di ricostruire cosa aveva fatto Franca de Michela quel giorno, partendo dalle molteplici testimonianze di chi l'aveva vista in giro l'ultimo sabato della sua vita. Franca quel giorno era stata vista un po' comunque in giro per Torino. La donna per tutto il pomeriggio si era accompagnata con tre giovani uomini di probabile etnia Rom. Era stata vista infatti intorno alle 17 all'interno di una pellicceria, insieme a un uomo alto, abbastanza giovane, carnagione olivastra, capelli lunghi, ondulati, pettinate all'indietro. Era stata vista anche nella famosa boutique, stavolta da sola. E Franca non paga di quel giro in centro, entra anche al Cavallo di Bronzo di Piazza San Carlo, una caffetteria storica di Torino. Ma non è sola. È insieme a un uomo alto, dalla carnagione scura, capelli abbastanza lunghi, ondulati e portata all'indietro. Un uomo, come direi il testimone, che sembrava di origini slave, e cito testualmente. Lo stesso descritto dal titolare della pellicceria. L'atmosfera però non era per niente serena. I due stavano discutendo animatamente. Dopo un po' li avrebbe raggiunti un altro uomo, anche lui alto, giovane e ben vestito, e anche lui di probabili origini slave. Ovviamente quando si parla di origini slave, signori miei, si parla di persone di etnia rom. Chiaramente nel 91 non vi era tanta accortezza nel definire precisamente le provenienze delle persone, quindi i migranti o le persone di etnia rom erano chiamati slave o extracomunitari. Ad ogni modo Franca è un abituai di quel caffè. Ci viene spesso accompagnata dalla solita compagine di gente che amava frequentare, quindi il cameriere non fa più di tanto caso ai suoi accompagnatori. Ma ci sono due testimonianze in particolare che aiutano a ricostruire l'unico ultimissime ore della donna settembre. Siamo in via Buenos Aires e sono le 20 e 30 circa di sabato 14 settembre. Un uomo è affacciato alla finestra per fumare una sigaretta, quando vede sopraggiungere un'auto da cui scendono tre uomini e una donna, probabilmente la stessa Franca, che proprio in via Buenos Aires dispone di un appartamento che era stato dei genitori. I tre sarebbero rimasti in casa per un'ora circa, quindi intorno alle 21 e 30 si sarebbero rimessi in auto per dirigersi a piazza San Carlo. Intorno alle 22 i quattro si dirigono in via Saluzzo per un drink al bar. La donna viene notata sempre insieme a questi tre uomini e qualcuno preoccupandosi di vederla da sola con persone di dubbia moralità pare si sia avvicinato alla donna e le abbia detto sia prudente. La donna con un sorriso avrebbe risposto ma stia tranquillo sono con amici. L'auto su cui viaggiava la donna e i tre uomini viene notata anche da una pattuglia di polizia che faceva servizio stradale. Ed ecco rieprirsi la cosiddetta pista Slava. Secondo questa pista la povera Franca sarebbe stata adescata da questi tre uomini, uccisa e infine derubata di tutti i gioielli e i contanti con cui era andata in giro quel giorno. O forse, più plausibile, la donna doveva loro dei soldi e dando per buona la testimonianza della vicina che avrebbe visto la De Michela litigare con un uomo sotto casa in via Abramante, si potrebbe ipotizzare che quell'uomo fosse lo stesso che aveva accompagnato la donna in tutti i suoi giri. Di quest'uomo verrà anche formulato un identikit. Franca sarebbe stata uccisa quindi in casa sua in seguito a un'aggressione da parte di uno o più uomini a cui forse aveva rifiutato di dare del denaro o forse sarebbe rimasta per un po' sotto minaccia da parte di questi individui. Potrebbe essere stata uccisa in auto? Ipotesi, niente più che ipotesi, la verità è che di questo caso non si sa nulla o quasi. Ma chi sono questi uomini? Vengono identificati tre ragazzi di etnia Rom, tutti molto giovani, uno addirittura minorenne, Nikola Stojanovic, Radenko Nikolic e Nenad Jovanovic. Due di loro però, capita l'antifona, faranno perdere le proprie tracce. Verranno però successivamente rintracciati in un altro campo romo ad inchiesta archiviata. Uno di loro, il minorenne Nenad Jovanovic, l'unico a rendersi reperibile, ammetterà di aver passato il pomeriggio e parte della serata insieme alla donna. Dirà anche di aver conosciuto la signora quel pomeriggio stesso e che era stata presentata dal suo amico Nikola Stojanovic, che conosceva molto bene Franca. E sarà proprio con Nikola che Franca entrerà al Caval de Bronze. I quattro poi entreranno insieme al bar di Via Saluzzo, dove faranno una sorta di aperitivo. Alle 20 e 30 Franca avrebbe proposto loro di preparare una cena a casa dei genitori, in via Buenos Aires, come indicato dal testimone. Usciranno alle 21 e 30, poi intorno alle 22 e 30 l'avrebbero lasciata al caffè Mochita, sempre a Piazza San Carlo, perché Franca avrebbe avuto un altro appuntamento. Il racconto di Nenad però è piuttosto confuso rispetto agli orari. Ad esempio riferisce che la donna dopo cena avrebbe chiesto loro di accompagnarla in un'agenzia di viaggio per ritirare dei biglietti, in un orario in cui le agenzie sono già belle che chiuse. Un anno dopo, Nikola e l'altro ragazzo andranno in procura a confermare la versione che il giovane Nenad aveva dato loro svariati mesi prima. I due erano scappati perché avevano paura di essere incastrati in qualcosa in cui loro non centravano nulla. La procura prese atto della loro deposizione, ma di fatto non vi erano prove di nessun genere e i tre uscirono ben presto dal registro degli indagati. Quell'indagine che sulla carta doveva essere semplice si era rivelata una vera rogna. Su questo caso, per 30 lunghi anni, calerà un assordante silenzio. In mezzo ci saranno le chiacchiere di tante e troppe persone, amici di Franca che forse ne calpesteranno un po' la memoria, raccontando particolari della sua vita che lei non avrebbe potuto smentire, come ad esempio la passione bruciante della donna per un giovane marocchino con lobby di spacciare sostanze, e per cui la donna si era persino indebitata nonostante avesse tantissimi soldi. Oppure il gruppo delle amiche di Franca in vena di fare sedute spiritiche per richiamare l'anima dell'amica. Un turbinio di squallore e cattivo gusto che attraversa i primi anni dalla morte tragica della donna. E anche Giorgio Capra ci mette del suo per rendere quella storia ancora più triste, perché intervistato da un giornale alla notizia dell'archiviazione del caso, l'uomo si mostra enormemente soddisfatto. Era ora, ci hanno messo del tempo, dirà, ma non solo, di questo omicidio accuserà anche lo Stato, reo di aver fatto chiudere i manicomi, lasciando pensare quindi che ritenesse la moglie insana di mente. E questo si sposa perfettamente con la minaccia di farla interdire. Ma non solo, mi viene anche da dire che essendo lui il marito, oltre che ex indagato, avrebbe dovuto essere il primo a non volere l'archiviazione del caso. Ad ogni modo, Torino tutta, gli amici e la stampa lentamente si dimenticano di lei e di quel caso di cui tanto si era parlato nei salotti come nei luoghi più malfamati della città. Qualcuno, forse tirando anche un sospiro di sollievo, chissà. Passeranno trent'anni prima che qualcuno tirasse via la polvere da quella storia storta di un oscuratorino. Trent'anni in cui le tecniche di indagine avevano fatto passi da gigante. Dopotutto, il 1991 era letteralmente la preistoria per le indagini scientifiche. Due magistrati solerti decidono così di vederci chiaro su quel caso semidimenticato, un cold case con tutti i crismi, è il caso di dirlo. E a finire nel mirino delle indagini ci sono tutti stavolta. C'è il marito, l'ormai ottantenne Giorgio Capra, e ci sono anche gli ex ragazzi Rom, ormai uomini, quattro in tutto, due di loro ormai irreperibili da tempo. Giorgio Capra è ormai un anziano signore che continua a vivere al numero 6 di via Bramante, in un palazione di otto piani con la portineria, la moquette e il corrimano in legno lungo le scale. Metodico, solitario come era sempre stato, turbato nella sua ritrovata quiete da quell'iscrizione al registro degli indagati. Si dice stanco di quella storia, è amareggiato, ed è anche comprensibile. Alla base di questa nuova indagine avrebbe dovuto esserci l'analisi di alcune tracce biologiche ritrovate sul vestito, ma è di questo non mi stupisco molto. Non ci sono altre notizie dopo quelle dell'ottobre del 2021. Non sappiamo ad oggi i risultati di quelle tracce, non sappiamo neanche se Capra sia ancora tra noi, non sappiamo niente di niente. Un'altra volta il caso è finito nel più totale oblio, e mi dispiace davvero non riuscire a dirvi di più su questa storia. Su Franca, sulla sua ingenuità, sul suo modo di rapportarsi con gli altri e di fidarsi anche di persone di cui non avrebbe mai dovuto fidarsi, e sul suo spirito ribelle che forse ancora legge nell'aria, si è detto di tutto e di più. Nessuno però ha colto la sua vera essenza, tutti troppo occupati a notare la sua eccentricità, la sua stravaganza per coglierne l'anima, e forse chissà, Franca voleva solo che qualcuno la guardasse davvero. Non lo sapremo mai. E si conclude così il mio video, conoscevate questo caso? Che ne pensate? Fatemelo sapere nei commenti. Vi ringrazio di aver guardato il video e se vi è piaciuto lasciatemi un like di supporto, iscrivetevi per non perdervi nessuno dei miei prossimi video, attivate la campanella e seguitemi anche su Instagram se volete. Nell'info box trovate anche il form per segnalarmi i casi. E a presto, con una nuova storia crime. Ciao!